Tanto buona per tutti ragazzi sono Mr.Gio, torniamo su Red Redemption 2 perché vedrete pochi video insomma comunque stavo giocando a Red Redemption 2 finalmente, mi è arrivato il gioco, non lo so c'era qualcosa che non mi tornava, forse nella responsività dei comandi ma non credo, non ho letto nessuna la mente là in giro forse c'era qualcosa legato alla mira assistita che non mi stava facendo godere il gioco pienamente allora che cosa ho fatto? Ho controllato nella sezione dei controlli e diciamo che ho trovato una, per così dire, un settaggio dei comandi che mi sento di consigliarvi per due motivi, uno per rendere molto più, diciamo anche difficile ma appagante la vostra esperienza su Red Redemption 2 e in secondo luogo anche per migliorarla perché io con questo nuovo settaggio dei comandi mi sono migliorato notevolmente la mia esperienza e quindi sono decisamente contento di quello che ho trovato vedete vedevo Arthur un po' lento, la telecamera non era perfetta, non era come la volevo io, non era responsiva come ci vuole per soprattutto le fasi action di questo gioco sono andato su controlli, mi sono concentrato su una terza persona perché io sto facendo quella, non ho ancora esplorato la prima persona vi consiglio, questa è una serie di consigli ragazzi, nella sezione zona morta mira sguardo io vi consiglio di azzerare perché in questo modo avrete una migliore precisione, una migliore risposta degli stick analogici e quindi è già questo non è una cosa malvagia poi per quanto riguarda la voce accelerazione mira sguardo io vi consiglio quasi pieno al massimo una o due tacche in meno, io ho fatto due tacche ma ho provato anche tre insomma tra tre e due tacche in meno perché in questo modo abbiamo un'accelerazione della visuale migliore senza però esagerare e quindi riusciamo a ruotare appunto l'arma e la visuale molto più facilmente e anche rapidamente per quanto riguarda la sensibilità io sono rimasto più o meno lì l'ho aumentato di uno o due tacche, adesso non mi ricordo, ve lo faccio vedere qui a video sensibilità mira, per la sensibilità sguardo ho aumentato invece leggermente di più rispetto alla metà che è preimpostata ho aumentato di tre o quattro tacche perché in questo modo anche la telecamera può seguire più rapidamente i cambi di direzione di Arthur ve lo faccio vedere qui, è molto più responsiva, è molto più rapida e quindi fate anche meno fatica nelle fasi diciamo concitate a ruotare la visuale non è finita qui perché io per questo settaggio dei comandi vi consiglio assolutamente di togliere nella sezione puntamento quindi sopra la terza persona togliere completamente la mira assistita mettete mira manuale, azzerate l'aiuto sulla mira, perché vi dico questo? perché sì, sarà magari più difficile fare alcuni scontri a fuoco soprattutto io qui vi faccio vedere con alcuni animali che come vedete non c'è più la mira assistita sarà forse più difficile certo soprattutto cacciare però fidatevi che in combattimento, e non ve li faccio vedere perché non ho trovato combattimenti intanto che registrava perché è assurdo quando li cerchi non li trovi, quando non li cerchi li trovi vabbè appunto è più difficile ma è notevolmente più appagante quindi fatelo, fatelo e niente questa è la schermata riepilogativa dei comandi che abbiamo appena messo vi ripeto è un settaggio di comandi con i quali mi sto trovando molto molto bene tra l'altro in chiusura di video vi faccio anche vedere questo che dovrebbe essere un easter egg riferito al primo Red Dead Redemption si parla di Bonnie McFarlane che era uno dei primi personaggi che incontravamo comunque niente questo era un brevissimo video di consigli diciamo su Red Dead Redemption 2 io vi saluto ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti